Ti ha portata novembre, quanti mesi dell'anno durerà la dolce amara vicenda di due sguardi, di due voci. Se io avessi una leggenda tutta scritta, direi che questo tempo che ci sfiora ci appartiene da sempre. Ma non sono che un uomo tra mille e centomila, ma non sei che una donna portata da novembre. E' un mese dona e un altro saccheggia. Sei una donna che oggi tiene un naufrago impaziente. Dimmi tu, sei scoglio o continente?